Mi chiamo Alfio Quarteroni, sono un matematico. Ogni giorno la matematica ci permette di navigare in rete grazie a motori di ricerca che sfruttano algoritmi potenti, inviare e ricevere foto e video dei nostri cellulari grazie a trasformate che digitalizzano immagini, effettuare pagamenti elettronici protetti sfruttando fattorizzazione in numeri primi, utilizzare navigatori stradali che risolvono problemi di ottimizzazione combinatoria. E potrei continuare citando ad esempio l'intelligenza artificiale o alcune delle ricerche che mi riguardano da vicino, come la simulazione dell'impatto di terremoti sui centri abitati, la costruzione di un modello che riproduce il complesso funzionamento del cuore umano a supporto della diagnosi e della terapia clinica, la costruzione di algoritmi per generare allenatori virtuali che sappiano trovare l'assetto ottimale di una squadra di calcio durante la competizione. Per quanto strano possa sembrare, tutte queste applicazioni si basano su teorie astratte, rigorose e potenti, quelle che nel linguaggio corrente si attribuiscono alla cosiddetta matematica pura o fondamentale. La matematica ha una grandissima tradizione nel nostro paese, ma i nostri migliori laureati troppo spesso ricevono di emigrare, attratti da opportunità allettanti e da un quadro accademico che offre loro certezze. Dobbiamo rendere il nostro paese nuovamente attrattivo per questo prezioso capitale umano. Abbiamo bisogno di matematici di valore per meglio formare i nostri ragazzi e per sviluppare e trasferire conoscenza matematica alla nostra società. La matematica migliora la qualità della nostra vita. La matematica contribuisce a fare di un paese un paese migliore.